Lavoravo giornalmente da lunedì al venerdì due ore e mezza, un totale di 12 ore a settimana. Di qui, è successo che in ottobre il direttore dell'agenzia delle entrate ha mandato una lettera nella mia azienda a Sita, a Udine, dove chiede la mia sostituzione. Licenziata per gli shorts troppo corti, offende nel naturale senso del pudore. Terzo datore di lavoro l'ha lasciata a casa per questo? Sì, senza avvertirmi, senza richiamarmi nemmeno verbalmente, cioè una lettera, niente, mi sono trovata una lettera di sostituzione che mi hanno mandato addirittura a Coneliano per un'ora o a Udine due ore, quindi io sono stata costretta a prendere la terza strada, voglio dire, cioè rinunciare. Questa è la storia di Gabriela per tutti i lumi. 37 anni, romena, vive in Italia da 15 e risiede a Villorba. Separata dall'estate scorsa, vive con il figlio di 14 anni. Ora, la sua unica fonte di reddito è l'aiuto economico della mamma e l'assegno di mantenimento per il figlio del marito. C'è un mutuo, le spese vanno avanti, non stanno ferme perché io non ho un lavoro, giustamente proseguono. Quindi lei si è rivolta alla nostra emittente per chiedere che cosa, in definitiva? Per chiedere il perché. Il perché tutto quanto per un semplice paio di pantaloni corti.